ciao amici della vostro jumpy allora mi sto per mettere in collegamento con torino vediamo cosa succede per juve atalanta vediamo sta nevicando nonostante qui sei dentro una stanza continua a nevicare incredibile quindi da quello che so juve atalanta sospesa e sospesa definitivamente niente quindi qui da torino è tutto ok ora vediamo a genova cosa succede dopo questa vittoria della samp come sono le condizioni meteo qui da genova sta nevicando vedete fortissimo anche qui è arrivato burjan dalla russia e c'è un meno 14 che rimbomba la grande incredibile quindi mi sa che per qualcuno si complica adesso la strada per la gengium e quindi purtroppo c'è questo meno 14 e niente quindi è tutto per il momento da genova non è nient'altro da dire anche perché guardate sta nevicando nevica tantissimo e quindi ciao a tutti bene a tutti finito il collegamento le notizie allora sono queste juventus atalanta verrà rinviata forse dicono forse al 14 marzo ma non è sicuro bisognerà vedere però una di quelle date potrebbe essere appunto il 14 marzo e a genova c'è tanta neve è arrivato burjan e quindi c'è questo meno 14 che rimbomba e si complica la strada jambion per qualcuno ciao a tutti da jumpy